Il piano che non volava, non è placido il passaggio dei primi fatti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Molti passarono quella notte infatti, ma c'è bisognava andare avanti. Su Dio è tanto dalle amate sponde, sono messo gli eventi in curia per l'ombre. E' un passaggio dolce consigliero, in piaveva il forno, non basta lo straniero. Grazie a sentire che attorno a 276 persone, che nel 2015-2018 ci hanno rimesso la vita, non per un partito, ma per un'idea. E quindi che ci siano problemi che oggi attorno a questo, quando la storia si vede lavorare assieme con gli ospiesi per commemorare i cento anni della guerra, non nel 15 con il 18, cioè l'anno della pace. Però io credo che questo spirito è lo spirito che ha guidato la regione quando ha deciso di sostenere questo progetto. E proprio perché avviene in occasione del 155 anni dell'Unità d'Italia, che è stato ricordato, l'Unità d'Italia, per noi che siamo arrivati dopo, in realtà si è costruita, nella Trabiaglia di Aria, sul Piazza, da Caporetto, cioè si è costruita in queste zone, e con i nostri modi, ma non solo quelli che sono nei nostri monumenti, ma tutti quelli che sono i monumenti della Sardegna, di altre regioni d'Italia, forse magari perché lontani meno ricordati, in realtà l'Italia è nata. E' nata in occasione degli eventi che hanno visto, quei 276 portoglianesi, lasciata l'Italia. Allora, scusatemi se devo esprimere una grande soddisfazione nel vedere che una riunione di questo tipo viene politicizzata. Cioè, io non mi sarei aspettato un intervento come quello dell'assessore alla cultura di Porto Duvaro, perché in questa occasione lo spirito della ricerca è quello della storia, e la storia non ha, la storia tende a togliere, a smussare gli angoli, ad andare al di là dei fatti, al di là delle passioni. Perché è sempre facile allora oggi ricordare il sangue dei vinti e tutto quello che sta avvenendo sul periodo storico che è stato, al centro di tutta un'attività politica anche dalla nascita della Repubblica oggi. Ma non era questo lo spirito. Lo spirito era quello di riconoscere che quei 276 cittadini portoglianesi che hanno lasciato la vita, che hanno lasciato orfani, che hanno lasciato famiglie, tre nomi che sono i TAPA, quindi io ho parenti stretti, i nostri aspetti in quel momento, scusatemi se sono un po' emozionato e svolgo mali ruoli in segretario della cultura in questo caso. Però credo che il valore del riconoscimento umano, e questi sono i veri diritti umani, quello di andare al di là delle parzialità per riconoscere quello che c'è dentro. Ecco, se noi riusciamo a fare questo, togliamo un ruolo per la città. Grazie. Bravo. Grazie. 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 Grazie.